Il connubio arte e sport di certo non è nuovo nella storia, l'attività fisica, la corso e il gioco della palla sono al centro di moltissime opere, comprese quelle di arte rupestre. Cercare di fermare l'attimo esatto in cui si compie un esercizio ginnico è una prerogativa dell'artista, concentrato sul movimento, sul tentativo di stabilire il momento di rottura di equilibrio che dona un nuovo punto di vista sul mondo. In quest'ottica l'Accademia di Belle Arti di Agrigento Michelangelo diretta da Alfredo Prado raccoglie l'invito lanciato della squadra di pallacanestro alla fortitudine Agrigento e con l'apporto di studenti e studentesse crea un mini percorso di esposizione all'interno del Palamoncala di Porto Empedocle. Stiamo facendo dei quadri un'esemporanea per conto dell'Accademia, sono e con piacere ci stiamo cimentando nel riproporre in varie chiavi differenti il tema che è il basket chiaramente. Tutto lo sport in generale è l'arte che comunque hanno in comune la passione. Sto cercando di riprendere quello che è il basket ma anche facendo capire anche ai bambini quanto è importante questo sport, appunto con questo personaggio che tutti conosciamo che è Bax Banni. Io sto rappresentando il logo della fortitudo per far capire loro cosa è il basket, cosa è la fortitudo e quanto sia importante per i giocatori.